La cassa è un elemento di fondamentale importanza di un brano definito industriale genera infatti ritmica e annatura del brano andiamo principalmente a notare quattro tipi diversi di cassa andiamola in una sequenza abrasiva era un esempio di spint ignorante mettiamo il tutto con un po' di rumore grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti